Allora ragazzi, questa sera io sono completamente impazzito, completamente incazzato. Che cosa abbiamo visto questa sera? Uno scempio? Abbiamo visto una partita? Abbiamo visto uno schifo sicuramente ragazzi. No, questa mica era una partita, era una partita di merda. Era una partita di merda, bastardi, voi non dovete più giocare nel legge, dovete sparire. Tutti, tutti dovete sparire, dei pezzi di merda. Tutti, dei pezzi di merda dovete sparire, dovete andare via. Io sto girando qui come un pazzo solo, sto girando qui in mezzo alla campagna da solo. Bastate, dei pezzi di merda, mi state facendo impazzire, stanotte non dormirò, pacca troia. Ma che cazzo combinate? E' questo onorare la maglia, e' questo onorare questo, e' questo onorare la maglia, e' questo onorare la maglia. Ma vi rendete conto di che umiliazione che ci avete fatto passare oggi? Ma vi rendete conto, vi rendete conto che cazzo di umiliazione che ci avete fatto passare oggi? Che avete fatto proprio schifo, siete dei pezzi di merda, siete dei bastardi, fate proprio schifo. Che cazzo di umiliazione? Allora, al ritorno, al ritorno dovete giocare con la primavera. Il legge deve giocare con la primavera. Corrine, voglio vedere che cazzo dici stasera. Voglio vedere che cazzo dici stasera. Tu devi stare zitto, muto, non puoi dire nulla. Avete fatto schifo, il Venezia ha strameritato di vincere questa sera. Non c'è stato niente, non c'è stato un tiro in porta, non c'è stata un'occasione. Loro ci hanno sfondato, ci hanno completamente sfondato. Non so che non si vede un cazzo, ma sto incazzato nero. Non si vede niente, lo so, non me ne ho fatto un cazzo, sto incazzato nero. Fanno proprio schifo, ragazzi, dai. Ma non si può, ma non si può veramente, dai, proprio veramente. Che cazzo dobbiamo giocare a fare così? Ditemi voi che cosa dobbiamo giocare a fare più. Basta, pensiamo alla Serie B dell'anno prossimo. Abbiamo finito quest'anno, basta, quest'anno abbiamo finito di giocare. Abbiamo finito di giocare, sono in vacanza da due mesi. C'hanno lo stipendio pagato, loro vogliono andare a farsi le vacanze, le Maldive. Dove cazzo vogliono fare, anche se non c'è sto covid di merda. Andatevi a farvi le vacanze, a posto di farci fare sta figura di merda. Andatevi a fare queste cazzo di vacanze. Non ci interessa più quest'anno, ormai è finita. Che cazzo è sto ritorno? Non serve a niente sto ritorno. Niente, niente serve. Niente ragazzi, non serve a niente questo ritorno. Che cazzo vuoi che serva? Che se ormai abbiamo finito? Per quest'anno abbiamo finito. Basta, andate via. Via da Lecce. Basta, noi tifosi siamo proprio veramente incazzati. Siamo schifati, siamo umiliati. Ditemi voi cosa si è salvato oggi. Forse Gabriele che ha fatto qualche parata. Ma difesa ha fatto cagare. Centrocampo ha fatto schifo. Attacco ha fatto schifo. Non c'è stato proprio un gioco. Non c'è più un gioco. Non c'è più niente. I giocatori non seguono più Corini. Non lo seguono più. Corini ormai non ti fai più seguire. Non ti fai più seguire. Ormai basta. Basta quest'anno. Basta che questa sera sono impazzito. Ho spaccato bicchieri tutti. Tutto spaccato. Mi raccomando ragazzi. Oggi è stata una bellissima live reaction. Su Glacius, il giallorosso Twitch. Ovviamente ringrazio Matthew, Leonardo e Giovanni che si sono abbonati al mio canale. Mi raccomando che l'Amazon Prime è gratuito. Seguitemi. Comunque giovedì ci sarà la prossima live reaction. Abbiamo fatto schifo. Basta. Niente. Io ringrazio chi mi ha seguito. Io mi astengo. Io mi dissocio. Questa sera dai giocatori del Lecce. Io mi dissocio completamente. Sicuramente. Questa sera mi dissocio. Tutti quanti i tifosi del Lecce sicuramente saranno schifati. Ma il problema sai qual è? Il problema è che si può anche stare e perdere. Io l'ho detto. Noi possiamo anche perdere. Ma non possiamo perdere in questo barbaro modo. In questo barbaro modo non si può perdere. No. Abbiamo perso. Ma vi dico io. In sei partite ne abbiamo perse quattro. In sette partite ne abbiamo perse cinque. Cioè praticamente ogni partita noi vediamo una sconfitta. Una cazzo di sconfitta. Vi sembra normale a voi che ogni partita abbiamo una sconfitta. Almeno sinceramente no. Cioè io devo vedere il Lecce che perde ogni partita. Una cazzo di partita. È inutile pure guardare la partita. Basta. Se voi volete perdere. Basta. Non ci giocate proprio. Stai tipo a casa oscia. Stai tipo in vacanza. Faffaci di buon culo. Pezzi di merda bastardica. Faffaci di buon culo. Ma ti rotto le cucchioni. Porco Giuda. Ma ti rotto lo cazzo. Che cazzo. Che partita di merda. E vaffanculo. Ma anche io sto a giro come uno paccio qua. Come a giro tutti i cucchioni. Manco dormo stanotte. Stanotte non mi fate dormire. Stanotte non mi fate dormire. Perché sono incazzato nero. Ma avevo spaccato il bicchiere. Non so capito un cazzo. Non lo so. Perché ho srotto tutto. Non si può stare. Questo è scempio. Io veramente. Quando abbiamo fatto le sei vittori di fila. Speravo e pensavo di andare veramente in sera. Veramente mi sono illuso. È stata solo un'illusione. Solo un'illusione. Nient'altro ragazzi. Ci avete buttato il fumo negli occhi. E basta. Ma ormai noi tifosi ci siamo svegliati da questo sogno. Ormai noi vediamo la realtà. E la realtà è che voi siete dei pezzi di merda e bastardi. Bastardi. Che non meritate di giocare in Lecce. Non meritate di onorare la maglia. Voglio vedere l'intervista di Corini. Voglio vedere che cazzo dice. Voglio vedere se oggi non ammette che Lecce ha giocato male. Che ha fatto schifo. E a ritorno dovete per forza vincere. Per forza. A ritorno vi aspetto. Dovete per forza vincere. Dovete vincere per forza. Dovete per forza. Dopo questo scempio questa sera. Dovete per forza vincere. Non ci sono altre scuse. Se non vincere. Se no. Non c'è inutile. Io non vi pagherei proprio. Io. Se fossi. Un desiderio di ogni partita. Se fossi sticchi da cano. Io non vi pagherei proprio. Vi andrei a fare un culo. Vi andrei a fare andare veramente a lavorare. Bastardi e pezzi di merda che non siete altro. Io sono stato vicino. L'ultimo video che ho fatto. Vi ho detto. Mi raccomando ragazzi. Giocate con lo sangue e lecchie e cacciate le cucchioni e cacciate le palle. Invece in realtà non avete fatto uno cazzo. Non avete cacciato né cucchioni né palle. Mi avete picchiato per culo. Mi avete scammato stasera. Mi avete scammato tutti i giocatori di tifosi del Lecce. Tutti li avete scammati. Tutti. Dallo primo all'ultimo. E basta. Voglio vedere giovedì una reazione. Voglio provo a vedere. No ma giro tutti i cucchioni.